Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 25 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Pareggio planetario, 2-2. Giornata movimentata ma non conflittuale, perché la Luna nel segno opposto tra Saturno, non manda in crisi la coppia, semplicemente focalizzano l'attenzione sul partner e se non c'è sulle ragioni di questa mancanza, dove avete ovviamente la vostra parte in causa, troppa paura di coinvolgervi, timidezza e mancanza di fiducia in voi stessi e nel vostro potere seduttivo. In compenso sul fronte professionale andate fortissimo, parola di Giove incoraggiante allo Zenit, quasi un peccato staccare la spina per andare in ferie, ora che il successo è a portata di mano, basterà stringere i denti, fare un salto in alto e lo afferrerete, facendo marameo all'avversario più temibile che ci riprova ma senza risultato. Bella forza, i migliori in assoluto siete voi. Per l'amore non è un buon periodo, molti errori compromettono il futuro. Coppie in crisi e rapporti frammentati, possibili anche separazioni, divorzi, allontanamenti, rotture clamorose. Difficoltà per i sindi che incontreranno molti ostacoli sulla loro strada. Se avete un carattere forte allora preparatevi, oggi dovrete sopportare qualcuno particolarmente noioso. Buone nuove sul fronte della comunicazione, in arrivo richieste di chiarimento per certe questioni che riguardano. Il cuore. Non avete oggi molte possibilità di farvi capire o di spiegarvi, alcune vostre scelte sono ampiamente criticate proprio da quelle amicizie che ritenete più sincere e fidate. Rimandate ogni spiegazione. Molti inviti all'ultimo minuto per la serata di domani. Organizzati. Potresti ricevere proposte interessanti nel primo pomeriggio. Discussioni tra colleghi e sul lavoro, cercate di non intrufolarvi in discussioni che non vi competono. Siete in tensione e preoccupati per qualcosa che sentite possa capitare, tranquillizzatevi sono soltanto preoccupazioni infondate. Rapporti difficili con collaboratori e soci d'affari, effettivamente oggi vi riuscirà difficile spiegarvi a causa di un mercurio che davvero sembra opporsi alla vostra comunicavità. E-mail e sms in arrivo. Una persona a voi cara vi sta pensando, potrebbe anche farsi viva dopo tanto tempo. Per voi sarebbe un'autentica sorpresa e potreste pensare anche a cambiare qualcosa nella vostra vita per farle posto. Se volete ignorare che un problema ci sia, fatelo tranquillamente, ma se lo fate perché sperate che si risolva da solo allora sarà bene che vi apprestiate a risolverlo con le sole vostre forze. In amore e sul lavoro potrebbero nascere dei problemi in giornata. Non vi andrà oggi più di tanto di immergervi nella frenetica e vivace fase estiva, poco interessati a frequentare luoghi affollati, come le spiagge o le discoteche, preferite il vostro nido dove poter coltivare gli interessi prediletti tra questi il bricolage, il giardinaggio, la passione per le squisite ricette di cucina. Venere nel segno amico del leone vi fa smorzare qualche lieve nota di nervosismo dei giorni scorsi, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Il vostro temperamento pacato e tendenzialmente posapiano decide brillantemente di non seguire le tante proposte che arrivano dall'ambiente esterno. Giornata no, effetto della luna malmostosa all'opposizione, abbracciata a Saturno pessimista. Di regola non siete tipi da piangervi addosso, ma oggi può capitare, specie se col partner siete in rotta, il socio vi ha mollati per andarsene in vacanze e gli altri in genere passano oltre, senza vedervi, quasi foste trasparenti. Vi consoli il proverbio meglio soli che male accompagnati. Amore ed eros. Il dubbio si insinua come un serpentello nel cuore, facendovi immaginare da parte dell'amato bene storie e vite parallele. Chiarire è doveroso quanto inutile, finché la fantasia non sia quieta, superata una paranoia ve ne creerete un'altra. Siete della prima decade? Qualche piccola baruffa con la persona che avete accanto non turba l'aria fondamentalmente armonica che riuscite a creare nella vostra coppia. Abbiate soltanto cura di non scordare attenzioni, che, per la vostra dolce metà, sono di significativa importanza. I single della terza decade con urano favorevole sperimentano una stagione di consistenti successi erotici. Lavoro e denaro. Non è momento di grandi affari, evitate trattative scivolose, rinviandole diplomaticamente al dopo ferie. Giornata ideale, invece, per chi ha scelto la formula vacanza studio, rifrescherete strutture grammaticali e lessico, una mossa strategica e proficua per il vostro lavoro. Anche in questo periodo dell'anno date prova della vostra professionalità, della passione per la vostra attività. Come sempre siete uno dei segni più stacanovisti che lo zodiaco preveda. Benessere. Sul lavoro tirate forte, immuni alla fatica, senza accorgervi della stanchezza che vi prende di colpo la sera, il segnale sono le borse sotto gli occhi e i reni affaticati, il desiderio di cibi salati ne è la riprova più lampante. Denaro. I vostri figlioli non risparmiano molto il denaro di cui li dotate? Fate loro un bel discorsetto, usando tutta la vostra calma unita anche a qualche botta di spirito, ma anche esibendo le vostre conoscenze di economia politica. Vedrete che una lampadina si accenderà in loro e li farà più risparmiatori la prossima volta. Per lei, a paralizzarvi nella campagna di conquista e la comparsa non preventivata di una sirena o almeno sedicente tale. Tranquille, lui è intrigato dalla bellezza ma non quanto dalla sensibilità e dalla cultura. Per lui, con una lei così romantica il gran finale è naturalmente il matrimonio, dunque rassegnatevi noiose scarpinate tra boutique per vestiti da sposa. Ma come, proprio adesso che è stagione di costumi da bagno? Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 10, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo! Grazie.